Qualità turistico ed ambientale a Frosolone e Scapoli, comuni ai quali è stata confermata la bandiera arancione. Per il Touring Club italiano hanno tutti i requisiti per detenere l'importante vessillo. Scapoli e Frosolone conquistano ancora una volta la bandiera arancione. Ad entrambi i centri molisani è stato infatti riconfermato il marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club italiano. L'impegno concreto nel preservare la bellezza e le tradizioni dei luoghi ha dato i suoi frutti. Un ambito e prestigioso riconoscimento assegnato dopo visite sul campo, in forma anonima ed in totale autonomia da parte di esperti del Touring Club. La cerimonia di consegna dei vessilli è avvenuta a Genova nella sala del maggior consiglio di Palazzo Ducale. Con Scapoli e Frosolone altri 226 comuni italiani hanno ricevuto la bandiera arancione che avrà validità fino al 2020. Nel tempo le amministrazioni hanno e continueranno a lavorare sui cosiddetti punti da migliorare e potenziare, come segnalato dagli esperti del TC in dettagliati report periodici. Fondamentali quindi anche gli investimenti per il rinnovo urbano, per la valorizzazione delle eccellenze e l'uso della tecnologia. I nostri sforzi per migliorare l'offerta turistica, la fruibilità e la vivibilità del paese, ha commentato il sindaco di Scapoli Renato Sparacino, sono stati la chiave per ottenere la conferma di questo importante riconoscimento nazionale che ci riempie di orgoglio e ci invita a fare ancora meglio.